Nuovo giorno, nuovo si può fare, oggi è da 8, quindi preparatevi perché proveremo tantissime cose che ci avete proposto, tante davvero pazze e non so come potranno andare a finire. Sto pensando a tutte le persone che mi vogliono bene, perché ho un solo tentativo per appoggiare questo motoscafo e ce la devo fare. E ragazzi, come va? Io sono Fieri, Niki, e io sono Stefia, che si è G.M.G.T.A. 5! E stiamo tornati con un nuovo episodio del Si può fare, questa volta torneremo a farne ben 8, tutti consigliati da voi. La Deluxe Edition, la chiamiamo? Oh, bello questo nome, bello, 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 bello. Quando è da 8 è una Deluxe Edition, quando è quella da 4 è quella normale. Ti interrompi con questi commenti fighissimi, sono ancora più felice. Ok. E dicevo, sarà molto interessante tutte le proposte, tante cose fighissime da provare, quindi iniziamoci. Se li ho qua pronte nel telefono perché altrimenti me le dimentico. Allora, secondo me, dato che siamo vicino a casa, cosa stai facendo? Ti volevo prendere a calci, così, vada. Ma sposti la macchina! Posso spostare la macchina con la mia potenza e forte! Ma quanto sei potente! Tantissimo, tantissimo. Vedi, che stanno si può fare? Si può spostare una macchina a calci solo per i Niki. Solo per i Niki perché solo io sono così forte, scusate. Devi arrivare a un tasso di nervoso altissimo e allora muovi la macchina col calcio. Tu ti accumuli nervoso per tipo 3 anni della tua vita, poi dai un calcio alla macchina e vedrai che la sposti. funziona a 100% per i Niki approved. Andiamo, dai. Va bene. Allora, diciamo che dato che siamo vicini a casa, testiamo due. Si può fare che ci avete chiesto in parecchi. Ovvero, se hai la polizia ed entri in casa, la polizia entra dentro casa e se la polizia non entra dentro casa, semini la polizia. Stando dentro casa. Stando dentro casa. Si, è un po' contorto però di fatto l'idea a base di questo. Quindi siamo vicini a casa ed è il primo che proviamo. Cosa stai facendo? Ah, giusto. Eh, sai. La polizia te la devi fare arrivare. Allora posso sparare chiunque. Uccido tutti. Non c'è bisogno. Entra, 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 entra. Apri. Secondo me era meglio se tu andavi alla tua arte. Apri. Allora, entra con gli amici. Ok. Ok. Caricamento. Io sono dentro. Abbiamo ancora la polizia. Sì, me la segna in alta destra. E sta lampeggiando al momento. Quindi io adesso mi siedo qua tranquillissimo nel mio divanetto. Perché è mio. No, non è tua. È casa mia questa. È la casa mia più bella della tua. Appunto. Poi non ci siamo più entrati a casa tua. Allora, per ora stanno lampeggiando. Cosa c'è di bello? Una nuova vodka. Poi. È bello stare in casa ad aspettare se la polizia te entra in casa o meno. Guarda, guarda. Molto emozionante. Un pizio pericoloso che sta parlando. Io mi sa che ho perso le stelline. Perso adesso. Ok. Quindi. Abbiamo teoricamente constatato che non entrano in casa. E allo stesso tempo può seminare. Quindi, vedi, questo non lo sapevo. Io sinceramente non ci avevo mai fatto caso. Però è una cosa figa. Alla fine, se te ne stai dentro casa, li semini così in tranquillità. Quindi molto, molto bene. Troppo facile. Mi aspettavo qualche complicanza, capito? Ero lì che aspettavo qualche problema strano. E invece. Vabbè, ci sta. Lì sciaccomo in olio. Molto semplice. Voglio provare due cose. La prima è se hai il giubbotto antiproiettili e ti faccio cadere una granata addosso, muori o il giubbotto antiproiettili ti protegge a sufficienza? Ok, andiamo a negoziarmi, li compro perché non ne ne ho più una. Esatto, la seconda ha a che fare con i lanciarazzi, ma la facciamo dopo questa, quindi non voglio iniziare a dirtela. Però compra anche i lanciarazzi, quello era il senso. E adesso, Ferenichi testerà per noi. Ovviamente, queste cose le voglio fare. Se il giubbotto antiproiettili funziona. Allora, inventario, giubbotti antiproiettili. E ho preso addirittura il super pesante. Ok, il più potente. Esatto, che c'è. Vado? L'hai indossato? Ce l'ho oppure no, perché non mi dice... Lo vedi in basso a sinistra se è blu. Allora ce l'avevo già, ce l'avevo già. Non so come perché non ne compro nella vita, ok? Ok. Morta. No, e ti dirò di più. Ma l'ha consumato oppure no? Aspetta, torno in vita e te lo dico. Perché se non te l'ha consumato toglie già i miei futuri tentativi. Me l'ha consumato. Ok. Mi ha tolto il giubbotto e mi ha ucciso. Allora, rimettilo e prova a tirarti la granata da un po' più lontano. C'è nel senso che la granata ti sta un po' più distante. Te la vorrei mettere qua stavolta. Io devo scappare. Ok. Niente, uguale. Consuma il giubbotto e mi uccide, proprio senza possibilità di dubbio. La granata ammazza e basta. Sì, è davvero potente, quindi non serve. Era la cosa più ovvia. Perché se ci pensi, se tu nella realtà ti metti un giubbotto antiproiettile, ti protegge dai proiettili in quella zona, ma se ti arriva una granata addosso, muori e basta. Esattamente. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Esattamente. Interessante però da provare, perché in effetti era un dubbio che non mi ero mai posta. Quindi molto interessante anche questo. Questo secondo me si può fare, ma è difficilissimo. Difficilissimo. Allora, praticamente ci hanno proposto, con i lanciamissili, di sparare in contemporanea due missili, cercare di farli scontrare a metà strada e farli esplodere in questo modo. E quindi si può fare, eh, si possono far scontrare i missili, oppure si attraversano l'un l'altro e ci colpiscono. Esatto. Non lo so, perché non so. Allora, mira perfettamente a me. Ok. Ok, proprio, tienimi totalmente con il quadrato centrato perfetto. Aspetta, aspetta, aspetta. È passata una macchina dietro di te e mi ha preso. No, devi smetterla. Mi sposta il virino ogni volta che ho fatto una macchina. Allora, cerchiamo di muoverci. 3, 2, 1, vai. A me è colpito. Io sono viva. Che fatti andrebbe fatto con l'RPG? Ma quello si sblocca a livello 100 e siamo ancora al 50. E' quello che ci hanno chiesto, però abbiamo solo questo e al momento proviamo. Quando arriveremo a livello 100 riproveremo l'altro. Proviamo in questo ponte, vai. Sì, dai, si sta. Il ponte della distruzione. Io da una parte e tu dall'altra. Ok, vai. 3, 2, 1, vai. No, siamo morti tutti e due. Quindi vuol dire che se siamo morti tutti e due in contemporanea, questa volta almeno erano dritti entrambi. E mi sa che non si possono... Cioè, perlomeno... Di così è impossibile e anche così non sono esplosi a vicenda. Cioè, perlomeno con questo lanciarazzi, secondo me, non si può fare. Esatto. In futuro proveremo con l'RPG, però anche questa cosa sembra che per ora non funzioni. Ne abbiamo ancora tanti da provare, quindi ci dobbiamo muovere, muovere, muovere. Oggi non c'è tempo per, capito, provare. Per le ciance qua si deve provare e basta. Esatto. Allora, ci manca. Seminare l'abbiamo fatto. Razzi lanciati l'abbiamo fatto. La polizia entra dentro a casa l'abbiamo fatto. Ci siamo? Perfetto. E' tutto che ha a che fare con gli elicotteri. Quindi andiamo alla stazione di polizia. Prendiamo quello parcheggiato male, che secondo me è talmente parcheggiato male che neanche se ne accorgono. Qua, 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 lo vedi? Eh sì, ma come accidenti hanno fatto a parcheggiarlo? Guarda, sono ubriachi. E' la sessione privata, quindi non possono essere stati dei player. No, assolutamente, assolutamente. Sappiate questo. Quindi davvero la polizia l'ha parcheggiato qua. Grazie. E adesso, come sempre, abbiamo quelli da provare in volo, perché come sempre con gli elicotteri date il meglio della vostra fantasia. Allora, dobbiamo provare un po' di roba. Il primo che voglio fare, perché dobbiamo andare con ordine oggi. Ovviamente. E' prendere un motoscaffo, andare in altissimo sopra l'acqua, lanciarlo. E vedere cosa succede. Il discorso è che vorrete sopra quel motoscaffo, ma ho paura che non riesca a racchiapparti. No, esatto, questo l'hanno proposto lo stesso di mettere me sopra il motoscaffo, ma praticamente avevamo già provato. Quando prendi il motoscaffo a me butta giù. Sì, prova a salire sul mio motoscaffo, quello che ho acchiappato. Aspetta, ma non l'hai più acchiappato. Davvero? Eh sì, l'hai tolto, dai, vieni in questo. Sono immobile, sono immobile. Aspetta. Dai, che ce la fai? No, come lo raggiungo? Dai, che ce la fai? Come lo raggiungo? È troppo in alto. Notando, no, no, sono a terra. Dai, ce la faccio. Vieni in alto. No, niente, niente. Ti ha fatto che... Vero? Sì, mi butta giù. Sì, si accappotta, niente, niente. Questo abbiamo... Allora, tu rimani sotto e io vado in alto e te lo faccio vedere. Inizio a vedere le prime nuvole. Secondo me può già andare bene. Cioè, guardate quanto sono in alto. Se devi affondare o meno, secondo me. Sì, ha voglia, ha voglia, dai. Può andare bene. No, ti sei spostato un sacco. Aspetta, aspetta, aspetta. Uno, vado leggermente più profondo. Lo dovrei vedere cadere comunque. Vai, 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 vai. 3, 2, 1, giù! Lo vedi? No, per niente. Adesso? No, per niente. È caduto ormai. Sì, io ho visto il pluff. Qua. Eccolo, lì giù. Lo vedi? Sì, sì, sì. Ed è totalmente intatto. Sta bene e non gli è successo nulla. Non è affondato perché altrimenti sarebbe rimasto a fondo. Esatto. Ok, ok, ok. Prova a salire sull'elicottero. Sì, perché adesso tocca a me lanciarmi. Esatto. Adesso tocca a me. E voglio vedere, soprattutto, se puoi salire sull'elicottero mentre io sto qua. Ti sta... Cosa hai combinato? Di preciso? Cosa hai pensato? Illuminami. Perché sei andato sott'acqua con l'elicottero? Dovevamo provare un'altra cosa con quest'elicottero, dopo. Eh, l'ho capito, ma perché sei andato sott'acqua? Perché stavo cercando di farti salire. Ma non ce l'era bisogno di andare così in fondo. La spalla ha perso un po' il controllo. Vabbè, tanto per la cosa che dobbiamo fare adesso, c'è bisogno solo di un elicottero normale. Però, teoricamente, l'elicottero che aggancia compare solo la mattina. Devo davvero lanciarmi? Sì, sì. Perché un altro si può fare che dobbiamo fare. Ma non mi interessa scoprirlo. Praticamente, in questo caso... Soffro di vertigini? In questo caso, se ci si butta in acqua da un'altezza così alta... In acqua. Esatto. Senza paracadute. Si muore o si sopravvive. O si cade in acqua e non succede nulla. Non si sa, non si sa. Schiatto proprio malissimo. Anche secondo me è proprio malissimo. Però, nel dubbio, io ci provo. Vediamo. Vado anche in planaggio potente. Così sono anche un po' più lento, diciamo. E adesso, 3, 2, 1... Steph muore! Yes. Sei morto? Sì, sì, sì. Dai, era la cosa più probabile. Ma la fortuna è dalla nostra parte oggi. Oh, che bello. Bastava di... Ah, addirittura due. Grazie. Però ce ne basta uno. Non vi scomodate, va bene uno, va bene uno. Esattamente. L'ultima cosa che oggi andremo a provare è una cosa che un po' ricorda quella del treno, del cercare di bloccare il treno, che un sacco di gente ha fatto tantissimi video provando con qualsiasi cosa. E non si può bloccare il treno. E non si può bloccare il treno. Noi ci proviamo con le montagne russe. Ok. Quindi vogliamo mettere una macchina, un motoscafo, queste cose, nelle montagne russe. Uno sta proprio sulla montagna russa. Io voglio stare sulla montagna russa. Esatto. E vediamo cosa succede. Tu mi guardi dall'alto e vediamo che succede. Secondo me non si possono bloccare. Anche le montagne russe. Cioè, perché viene spostata la macchina, sì. Sì, sì. Mi sembra... Non lo so. Guarda che per una volta ho grossi dubbi. Anche la barca può essere interessante. Quello che ha chiappo a chiappo, vai. Niente. Hai preso la barca e l'hai mollata. Il ponte. No. Occhio, 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 occhio. Vai. L'ho chiappata? Dovresti, sì, 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 sì. Vai. Vai. Allora, a questo punto... Mamma mia quanto pesa. Tu devi scendere. Allora, no. Cerca di farmi atterrare almeno nella piattaforma. No, non hai capito che non riesci a salire. No, 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 no. Non fa con questa barca. Non fa? È troppo pesante? Ok, ok. Riuscivamo la pena a muovermi. Sì, e infatti qua volevo anche dire una cosa. Molti ci hanno consigliato di prendere tipo... No, ti prego. Non ce la fai proprio, vero? Non ce la fai. No, aspetta. Dai, dimmi che ce la fai. Teoricamente sta ancora funzionando. Sì, sì, esatto, esatto. Ti prego. Ti prego, perdonami per l'errore che ho fatto. Oh, che bello. Ti dicevo, molti ci hanno consigliato di prendere le cose più disparate tipo camion, autobus. Ma come vedete le cose troppo pesanti non si possono sollevare purtroppo. Però comunque l'autobus io voglio provare. Io ci sono, tu come sei messa? Sì, sto cercando l'entrata, l'ho appena trovata, l'entrata delle montagne russe ovviamente. Ok. Ok. Voglio scegliere un punto dove è anche veloce. Guarda che sarà difficile parcheggiarla. Eh sì, ok, io sono qua pronta. Quindi appena arrivano le posso prendere eventualmente. Mi devi dire, appena ci sali, perché se lo butto prima ho paura che si chiuda la giostra e a quel punto tu non ci puoi salire. Sto pensando a tutte le persone che mi vogliono bene. Ok. Perché ho un solo tentativo per appoggiare questo motoscafo e ce la devo fare. Eh, a voglia, a voglia, sì sì. Perché se lo incastro lì è finita, capito? No, certo. E guarda che è davvero stretto, anche con la macchina ho paura. Perché proviamo cose così complicate? Perché ce le consigliano i consolini, non è colpa nostra. E noi le facciamo ovviamente. Esatto. Ok, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Dimmi appena ci sei salita sopra. Ok. Ci sei? Ah, eh, scusami. Ci sei? Non mi fai salire. Io ce l'ho fatta. Io ce l'ho fatta. Ok, ci sono, ci sono, ci sono. No, no. È caduto? No, no. Si è esploso tu? Sì. No, accidenti. Però tu ci sei? Sei partita? Dai, sì, 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 è un po' lento lì. È il momento dove si decide tutto. Potrebbe essere la cosa più gloriosa di sempre, come il fallimento più grosso di tutti. Anche perché già è esploso l'elicottero, quindi... Eh, la voglia, la voglia. Non possiamo neanche provare con la macchina in questo episodio. Ok, ti vedo? Sì, mi vedi, mi vedi, mi vedi. Adesso fai una curva, scendi. E poi ci sono. E poi ci sei. Vai, 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 adesso. Tre. Due. Uno. Io alzo le braccia! Eccolo! Guardami! No, niente, non lo può fermare. Come avevo immaginato, non lo... E io sono ancora con le braccia alzate per la felicità. Non lo può fermare, ok. Un po' delusa, perché speravo, cosa ne so, che avesse un tentennamento, che si... Cosa ne so, rallentasse un minimo. Invece non gliene frega niente. E però... Sembra proprio come il treno. In ogni caso, dai, speriamo che sia stato piacevole. Oggi non ne ha funzionato neanche uno. Giusto? A parte, vabbè, la polizia, sì, siamo riusciti a seminare. E vabbè, erano molto, molto complicati. No, mi sa di no. No, mi sa che tutto il resto è stato fallito, vabbè. Erano molto complicati stavolta, però il bello, dai, è di riuscire a provare le cose, vedere come vanno. Esatto, il bello è scoprire se funzionano o non funzionano. Quindi, ci fermiamo così, speriamo che vi sia piaciuto. Come sempre, un sacco di commenti, proponendoci tante altre cose a provare. Cercate di proporci poche cose con gli elicotteri, così facciamo qualche episodio dove semplicemente stiamo a terra a provare cose particolari. Ne abbiamo già un bel po' di cose a provare a terra. E mi raccomando, fate attenzione perché molte, molte, molte delle cose che ci avete proposto sono solo per il single player. Quindi cercate di fare attenzione perché alcune cose, ovviamente, essendo nell'online, siamo costretti. Tipo il sottomarino, per intenderci. Esatto, lo squalo, lo squalo, tutte queste cose. Ci sono soltanto nel single player. Questo vuol dire che in futuro faremo degli episodi speciali in single player. Però, per ora, ci dedichiamo ancora a tutte le cose che si possono fare nell'online. Alzate le braccia, subito. Subito, subito. Viva le montagne russe! Non è vero, le odio. Non è vero, non le ho mai fatte in vita mia perché non le sopporto. Esattamente. Ma va bene. È una cosa che odio, però su GTA mi piacciono. Ok. Quindi, ci fermiamo così, proponete un sacco di cose, likes, baby, baby, bu, sondaggi, cose varie. Ci fermiamo così. Beh, ragazzi, se dice così, c'è già già, setteci un like. E se la prima volta che avete visto il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Grazie a tutti.